buongiorno a tutti io sono Mario Catania sono un giornalista e sono l'autore del libro cannabis il futuro verde canapa questa è la nuova puntata di cannabis news che sarà interamente dedicata alla fitorimediazione la canapa come sappiamo una pianta che ci potrà aiutare in quelle che sono le sfide climatiche che l'umanità si troverà ad affrontare grazie alle sue numerose spiccate proprietà ambientali può aiutarci a ridurre l'utilizzo di materie plastiche di derivati del petrolio come anche le fibre sintetiche o per esempio i combustibili può aiutarci a ridurre la deforestazione insomma può aiutarci dal punto di vista ambientale in tantissime maniere una di queste è quella della possibilità di aiutarci a ripulire rettelarmente il pianeta questo perché la canapa così come altre piante ha delle spiccate doti fitorimediative cioè le permette di togliere dal terreno quelli che sono inquinanti e metalli pesanti ed è una cosa che è già stata studiata ed esplorata in passato e che oggi sta tornando diciamo di attualità uno dei primi esempi moderni infatti riguardo alla fitorimediazione è successo negli anni 90 in america quando la dupont che è un'azienda che è più volte stata associata al proibizionismo della canapa visto che negli anni del proibizionismo creò il nylon che è una fibra sintetica appunto che deriva dal petrolio un chimico dell'azienda negli anni 90 in america sperimentò la canapa e l'ambrosia per pulire i terreni che erano intorno al fiume del hauer che era quello dove l'azienda scaricava oltre 750 sostanze chimiche nello stesso periodo a pochi anni dal disastro nucleare di cernobil siamo sempre nel 92 alcuni scienziati seguirono questo progetto per ripulire i terreni contaminati dai metalli pesanti tramite la canapa è allora che la scienziata india rischi creò appunto il termine fitorimediazione e nello studio che allora pubblicarono scrissero che la pianta e la canapa era una delle migliori piante fitorimediatrici con le quali loro si erano quelle quali loro avevano avuto a che fare un altro studio importante uno studio tedesco fatto nel 2002 in germania in cui gli studiosi dopo aver fatto le varie analisi hanno scoperto che la maggior parte dei contaminanti una volta assorbiti dalla pianta vengono stoccati nelle foglie e in parte nelle radici un'altra ricerca del 2014 in india si era concentrata sempre sulla canapa notando le ottime appunto qualità del ripulire i suoli e sottolineando che in grado di assorbire arsenico piombo mercurio rame cromo nickel e altri metalli pesanti e che un'ottima pianta da iper accumulo hanno scritto ma noi abbiamo anche degli esempi italiani uno dei primi esempi recenti è stato quello che è stato portato avanti presso la masseria fornano è una masseria che sorge vicino all'ex liva e anni fa a causa degli alti livelli di diossina tutte le pecore che facevano parte di questa masseria furono abbattute da allora appunto il terreno fu dichiarato non coltivabile per almeno vent'anni e dalla tragedia che si prospettava per questa masseria una speranza arrivata dalla canapa perché sono state ripetute negli anni alcune semine di canapa facendosi seguire la canapuglia e dall'avap che l'associazione dei biologi ambientalisti pugliesi che appunto seguirono l'agricoltore in queste semine poi partecipate da tutto il territorio della canapa per per capire quanto potesse effettivamente ripulire il terreno un altro progetto simile è stato creato in sardegna nel 2017 vero un progetto triennale che era stato fidanzato con centinaia di migliaia di euro dalla regione sardegna e anche qui il progetto era diviso in due una parte puntava alla coltivazione di canapa per creare lavoro quindi come risorsa agricola ed economica e l'altra a studiarla nella fitorimediazione per i terreni ma la novità è che un altro progetto partirà a breve sempre in puglia perché l'abap che l'associazione di cui parlavo prima ha vinto questo bando regionale per la quale sono stati messi a disposizione 20 mila euro e quindi la prossima primavera vicino vari semineranno questo etaro di canapa con diverse varietà e diverse modalità nel senso che questo etaro sarà diviso e una parte sarà coltivata con i classici filari di canapa un'altra invece con la coltivazione cosiddetta macchia e utilizzando appunto diverse varietà di quelle certificate a livello europeo per capire se la modalità di coltivazione e quale tra queste varietà possa funzionare meglio dal punto di vista fitorimediativo il progetto partirà appunto la primavera prossima si chiama green che è l'acronimo di generare risorse ed economie nuove l'abap è appunto il capofila del progetto e a questo progetto farà poi seguito una pubblicazione scientifica che racconterà appunto come la canapa sia comportata nel nel ripurire questi terreni la puntata di oggi si chiude qui vi invito naturalmente a seguire il nostro canale youtube a iscrivervi per poter rimanere sempre aggiornati anche per tutte le altre rubriche video e naturalmente a leggere dolce vita sul nostro sito dolce vita online punto it o naturalmente la rivista cartacea che potete trovare nei workshop italiani nelle associazioni grazie a tutti